Nera, nerissima la fumata uscita dal tavolo di crisi in Regione Abruzzo sulla Johnson Controls di Corropoli. L'assessore quaresimale ha tentato una mediazione, ma la multinazionale è irremovibile. Ci hanno chiaramente detto che ritengono necessario dover chiudere la produzione per mandarle in paesi dove a questo punto il costo del lavoro è inferiore. Ovviamente per noi questo è inaccettabile, noi continueremo a portare avanti la nostra azione sindacale in attesa che verrà fatto, così come oggi è stato richiesto, un tavolo al Ministero per far tornare indietro la multinazionale da questa scelta che riteniamo folle, assolutamente illogica perché oggi ci hanno dichiarato che andranno avanti con la procedura di licenziamento collettivo. Noi non ci fermiamo, continuiamo questa battaglia, ho già deciso con gli uffici e anche con l'organizzazione sindacale di portare il tutto a un tavolo nazionale anche perché si tratta di una multinazionale e poi noi vogliamo avere un'interlocuzione proprio con il vertice, con i vertici dell'azienda non solo con un rappresentante, li vogliamo guardare in faccia e capire quali sono le intenzioni. Da quanti anni lavora in questa azienda? Io ci sono nato, questo è il mio 35esimo anno in buona sostanza. Per noi oggi è stata una doccia gelata, la notizia che ci hanno dato perché eravamo venuti, certamente non ci aspettavamo chissà cosa, però almeno una piccola proroga per poter andare avanti e cercare di trovare una soluzione che potesse impattare il meno possibile. Quello che dobbiamo organizzare da solo adesso è capire come riuscire a tenere questo colpo e creare delle condizioni per favorire il ricollocamento delle persone. È necessario avere del tempo, quindi insistiamo per la proroga del contratto di solidarietà e per mettere in gambo ogni formulazione. E' certo che io voglio coinvolgere il Ministero perché dobbiamo fare una dura lotta a tutela dei lavoratori. Andremo avanti e non arretreremo di un passo perché non ci sono le ragioni, se non quelle finanziarie, per mandare a casa 60 persone. È assolutamente inaccettabile.